Ho cercato in tutti i modi un confronto sereno e costruttivo con il sindaco di Prato La Pelligna, ma Antonella Di Nino ha deciso che l'amministrazione della guidata non debba più far parte della centrale unica di committenza con Sulmona, andando dritta per la sua strada, agendo come se fosse tutto precostituito. Mi sarei aspettata che il sindaco di Prato l'accogliesse in mio invito, in incontro teso quantomeno approfondire e avvalutare tutti gli elementi per migliorare un servizio strategico di fatto avviato circa un anno e mezzo fa dei nostri predecessori. Ero disposto a un confronto onesto e istituzionale, nel quale ogni decisione sarebbe stata legittima, compreso lo scioglimento della convenzione. Invece il sindaco ha liquidato frettolosamente la questione, dando l'impressione di essere guidata da motivazioni legate a vecchie logiche di opportunismo politico e ragioni di campanile, piuttosto che dagli interessi dei cittadini, non aprendose le opportunità di migliorare i progetti di collaborazione e rinsaldare i legami di territorio. E quanto afferma il sindaco di Summona, Anna Maria Casini, all'indomani della delibera di recesso della convenzione sulla CUC tra Pratola e Summona, la decisione della maggioranza di Pratola Bellissima non è andata giù alla Casini. Ritengo, aggiunge il sindaco di Summona, che si tratti di una decisione affrettata e miope di natura politica che non guarda percorsi strategici di territorio.